Il mio amore per Amber Heard Nuovo amore per Amber Heard, chi è Kelly McNaught? I tempi del matrimonio finito malissimo con Johnny Depp sono ormai lontani. Eppure il fidanzamento col milionario Elon Musk è ormai un ricordo. Per Amber Heard, giovane e provocatoria attrice, è giunto il momento di voltare pagina. E c'è chi giura che per lei sia già arrivato un nuovo amore. Un uomo lontano dall'ambiente televisivo, ma anche totalmente diverso dall'ex fidanzato. Un nuovo amore, così diverso. Non si può dire che abbia le idee chiare in fatto di uomini, Amber Heard. Capace di far capitolare Johnny Depp come neppure Vanessa Paradis, nonostante il lunghissimo fidanzamento e i due figli, era riuscita a fare, fino a sposarlo, dopo il divorzio e le accuse di violenza, la 31enne attrice texana si era innamorata di Elon Musk, il ricchissimo patron della Tesla dal volto pulito. Neppure con lui, però, finì bene. E Amber Heard si trovò ben presto di nuovo single. Oggi, le cose sembrerebbero essere cambiate. A due mesi di distanza da quella rottura, l'attrice che si trova in Australia per girare Aquaman, film basato sull'omonimo fumetto in cui interpreta la parte della sirena e supereroina Mer avrebbe conosciuto il muscolosissimo Kelly McNaught. Che in passato ha lavorato come cameriere e che oggi come la sua pagina Instagram dimostra si guadagna da vivere grazie alla sua passione per il fitness. E' stato il quotidiano locale Northern Star, a pubblicare le foto che ritraggono Amber Heard in compagnia del bel neozelandese. Con lui, in atteggiamenti intimi, la star si è fatta sorprendere all'interno del tè collettive, un ristorante della Gold Coast, Queensland. Proprio grazie al suo fisico statuario, Kelly McNaught ha lavorato come cameriere in un locale che ai tavoli prevedeva un servizio a petto nudo. Ed è stato anche la controfigura di Ted Rock, alias Dwayne Johnson, a cui peraltro somiglia molto. Sembra che, con la sua evidente bellezza, Kelly abbia ora stregato Amber Heard, facendole dimenticare lo nel difficile periodo seguito alla loro separazione. Dopo il divorzio da Johnny Depp, da cui la Heard ha ricavato 7 milioni di dollari, interamente devoluti all'American Civil Liberties Union and Children's Hospital di Los Angeles, Amber ha passato un periodo difficile. Provata e magrissima, aveva fatto preoccupare i suoi fan. Oggi, che è sopravvissuta anche alla rottura con Elon Musk, la splendida attrice pare aver ritrovato la sua felicità. E la sua forma fisica? Le foto che, in Australia, la ritrauggono a cena coi colleghi di set alla Fisherman's Valve Tavern di Main Beach, mettono in mostre tutta la sua bellezza. Lungo abito nero, stivali pitonati e largo cappello, Amber Heard con l'immancabile rossetto rosso è apparsa rilassata. E sembrava molto più giovane dei suoi 31 anni. Che, dietro quell'espressione serena, ci sia davvero un nuovo amore? Non è dato saperlo. Certo che, dopo le sue burrasche d'amore, un po' di fortuna in questo senso le servirebbe. E magari che Lim Knaug testraneo al mondo dello spettacolo, ma lontano anche dall'elite dei giovani miliardari nerd è davvero quello giusto per lei. Ciao!